L'ultimo capolavoro di Zaha Hadid è pronto per essere ammirato. Il nuovo aeroporto internazionale di Pechino, disegnato dall'architetta anglo-irachena deceduta nel 2016 insieme ai francesi di Edepe, è pronto dal 30 giugno, ma sarà inaugurato solo il 30 settembre per le celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese, fondata da Mao il 1 ottobre del 1949. Pechino-Daxing sarà il più grande aeroporto del mondo. I milioni di passeggeri che transiteranno da qui potranno ammirarne la forma stella marina con cinque lunghi tentacoli dei riflessi ramati. Situato alla periferia sud della città, l'aeroporto servirà a 200 milioni di persone da 28 città dentro intorno a Pechino, Tianjin e la provincia settentrionale di Ebei. L'aerostazione è stata pensata per decongestionare il traffico di aerei e passeggeri dell'attuare aeroporto di Pechino Capital, situato a nord-est della metropoli cinese, che conta circa 21 milioni di abitanti. Per la costruzione dell'aeroporto sono stati spesi più di 11 miliardi di euro e sono stati impiegati 40.000 lavoratori.